ciao a tutti amici dei pesci benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami pesci tendenze energetiche affettive per la seconda parte di dicembre 2022 abbiamo il diavolo amici dei pesci con il diavolo l'energia è diciamo frizzantina quando c'è diavolo si parla sempre di qualche tipo di costrizione di tentazione piuttosto che di schiavitù volontaria è un'energia pesante in realtà ok parla di potere mentale parla di qualche tipo di peso anche alle volte andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale quindi è facile no queste sono troppe quindi è facile che non risuoni tutto voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il nostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi ok allora cominciamo con un 2 di coppe al contrario un 4 di coppe un 9 di denari e un cavaliere di coppe al contrario ragazzi allora il 2 di coppe al contrario o come la sensazione che possa adesso poi andiamo a vedere con i mini tarocchi però ho la sensazione che ci sia una relazione che non è una relazione nel senso che non è poi o non è ufficiale o è ancora talmente agli inizi da non essere considerabile ancora come relazione il 4 di coppe mi dice che c'è una sorta di cecità da parte vostra è una carta che parla di qualcuno che è focalizzato semplicemente su quello che è davanti sulla vita di tutti i giorni e non si rende conto delle possibilità che ci sono in più intorno insomma questa coppa non è vista dalla persona il 9 di denari il 9 di denari è una carta di amor proprio e essendoci il diavolo credo che molte persone vorrebbero essere più forti sia a livello magari economico perché comunque 9 di denari ma anche proprio a livello caratteriale e poi abbiamo questo cavaliere di coppa al contrario come se si stesse come se si stesse aspettando un movimento da parte di qualcuno qui abbiamo 9 di spada al contrario un asso di denari al contrario e un 8 di denari al contrario e c'è qualcosa qua ragazzi che in qualche modo vi vi preoccupa e con il diavolo penso che siano questioni legate a a qualche tipo di nuovo inizio questione lavorativa questione pratica credo che qui qualcuno ha voglia di essere indipendente ha voglia di diventare autonomo ma probabilmente c'è una questione qualcuno potrebbe essere che non al lavoro perché c'è un 8 di denari al contrario comunque e quindi diventa difficile diventare indipendenti perché l'indipendenza economica crea amor proprio nel momento in cui c'è una dipendenza economica da parte di qualcuno magari proprio da parte di questa persona insomma che è rappresentata o con il 2 di denari o con il cavaliere di coppa al contrario diventa difficile insomma andiamo a vedere con i mini tarocchi così vi riesco a dire qualche cosa in più io intanto per chi non lo sapesse vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023 ho pubblicato un link scusate ho pubblicato un video che spiega il programma e le modalità di partecipazione insomma le modalità di svolgimento e trovate anche quel link sotto qui nella descrizione allora andiamo a vedere il 2 di coppe 7 di coppe asso di spade e la carta degli amanti sì di nuovo mi ribadiscono un po' quello che vi ho detto prima è come se ci fosse una sorta di illusione per un'eventuale relazione è una relazione non relazione è come se vi avessero illuso vi avessero detto qualche cosa che magari ha creato delle aspettative ha creato una sorta di possibilità di pensiero diciamo così che potesse indurvi a pensare ad una relazione in armonia andiamo a vedere il 4 di coppe 10 di spade qui c'è una sofferenza e 7 di spade qualcuno qua è stato deluso se non dovesse essere ancora successo anche se sento che sì ragazzi perché l'asso di spade è la verità che viene a galla è qualcuno che vi dice qualche cosa però ecco questo tipo di verità sento che potrebbe non essere magari quello che voi vi aspettate ma probabilmente non è neanche la verità il 7 di spade parla di azioni o parole diciamo così poco chiare c'è la carta del diavolo fate attenzione perché magari è solo un mezzo da parte dell'altra persona per ottenere quello che vuole insomma andiamo avanti vediamo il 9 di denari un'altra volta due di coppa al contrario guardate ho anche questo tipo di lettura che è come se probabilmente questa relazione c'era ma si dà un taglio per una questione di amor proprio perché vedendo queste carte ho fortemente la sensazione che qualcuno abbia la voglia di andare ad abitare da solo di staccarsi da questa relazione perché anche qui di nuovo c'è il 2 di coppa al contrario però c'è una carta di 4 di bastoni che normalmente parla di un'unione felice ma parla anche di casa e il 9 di coppa il 9 di pentacolo è una carta di una persona singola di una persona indipendente autonoma e il 9 scusate il il matto qui è una carta che parla di nuove avventure c'è la voglia di iniziare qualche cosa di nuovo andiamo avanti vediamo il cavaliere di coppa al contrario abbiamo un cavaliere di spade al contrario e un 6 di bastoni sì ho l'impressione che ci sia una sorta di andi rivieni da questo tipo di situazione piuttosto che di voglia di indipendenza andiamo avanti vediamo il 9 di spade al contrario abbiamo un 5 di coppe e un 10 di pentacoli credo che per qualcuno si tratti di lasciare facendo questa decisione si lascerebbe indietro un gruppo può essere un gruppo familiare può essere la famiglia che si è creata magari con questa persona quindi la famiglia che avete creato voi o la famiglia allargata perché 10 di pentacoli parla di famiglia allargata quindi anche con i parenti andiamo a vedere l'asso di denari c'è qualcosa qui comunque ragazzi che vi costringe la testa ci sono dei pensieri fate attenzione che questo set di spade non sia vostro che non siano le proiezioni che fate voi perché avete anche set di coppe che parla di proiezioni di illusioni anche di possibilità però in questo caso avendo l'asso di spade che è una carta che taglia che trancia questa energia potrebbero essere le proiezioni allora l'asso di pentacoli al contrario è spiegato dal fante di pentacoli e dalla carta dell'erimita un'altra carta di solitudine come il 9 di pentacoli sì io lo sento forte qualcuno ha voglia di andare per i fatti suoi andiamo a vedere l'8 di denari al contrario asso di coppe e 4 di spade dunque sento che qualcuno ha bisogno di recuperare delle energie recuperare delle forze recuperare l'amore per se stessi è un po' come se le carte vi consigliassero non date tanta energia fuori ma portatela dentro ne avete bisogno voi concentratevi su voi stessi lavorate sull'amor proprio lavorate su quelle che potrebbero essere le vostre proiezioni e con il fante di pentacoli vi suggeriscono di iniziare un nuovo percorso o interiore quindi perché no potrebbe essere un seminario un qualche tipo di percorso di crescita personale o anche semplicemente leggere dei libri e fare un lavoro introspettivo per esempio però il fatto è che il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista qui c'è bisogno di iniziare qualche cosa da capo fondamentalmente e sento che è il conoscersi per quello che vi dicono prendetevi cura di voi stessi magari in questo in queste se avete giorni di riposo nelle vacanze di Natale insomma fate proprio dei lavori per voi stessi fate delle meditazioni magari non lo so provate con dei cristalli voglio andare a vedere qualche carta per i single vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più e poi per le persone che sono in una relazione cavaliere di bastoni gli amanti wow ma che belle carte ragazzi allora il cavaliere di bastoni è una persona che qualcuno la conosce già per qualcun altro invece no deve arrivare abbiamo la carta degli amanti che era una carta che rivediamo qui abbiamo la carta del matto che è una carta che rivediamo qui sì ho la sensazione che per qualcuno ci sia questa nuova conoscenza guardate quando c'è la carta degli amanti è sempre positiva nonostante il diavolo che in questo caso potrebbe parlare dei vostri condizionamenti mentali di come voi controllate la situazione o voi stessi all'interno di una situazione però poi abbiamo anche la carta del matto nuovi inizi nuove avventure qui inizia una relazione ragazzi che ripeto la sento come una relazione sana ma non è detto che sia una relazione continuativa perché comunque il matto parla di avventure e il cavaliere di bastoni diciamo che è un po' la figura che rappresenta l'amante a livello passionale e in effetti ci sta che questo cavaliere di coppia sia il contrario come se non ci fosse ancora quella parte di coinvolgimento in più quella parte di compromesso in più con questa persona però ecco qualche cosa inizia insomma l'importante è iniziare no? va bene andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione andiamo a vedere qualche parte in più allora abbiamo un uovo di bastoni che si ripete la carta dell'eremita che si ripete la carta della temperanza al contrario che è un po' l'energia del quattro di spalla ma avete notato che i singoli hanno più riflesso su questa zona della lettura mentre le persone che sono in una relazione hanno più riflesso della seconda parte della lettura ragazzi qui c'è qualche cosa che voi dovete elaborare all'interno di voi probabilmente si tratta di proiezione di qualche cosa che non vedete e di nuovo rinnovo l'invito a fare questo percorso di crescita spirituale perché adesso come adesso non siete in equilibrio c'è la parte mentale che è molto forte le cose dovrebbero essere così voglio che siano così perché ricordo che il diavolo fa sempre riferimento anche al proprio ego quindi a quello che io voglio ok per cui ecco forse per quello che riguarda voi c'è un po' più bisogno di lasciare andare i pensieri e il controllo all'interno di una relazione cercate di capire che cose valido per voi quale è la vostra reale verità più che volontà ok andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura vediamo cosa vi dicono un oracolo per piacere grazie grazie ok wow arcangel arcangelo zatchiel oh che bella parla di autoaccettazione di compassione di perdono di amore per se stessi di amore incondizionato è una bellissima carta vi dice che è un po' come se vi dicesse che c'è questo angelo che potete invocare potete chiamare quando avete bisogno di autoaccettarvi il perdono qui è anche inteso verso noi stessi e si raggiunge attraverso la compassione la comprensione e l'amore incondizionato poi abbiamo l'arcangelo Fanuel e questo arcangelo parla di speranza di ottimismo e di nuovi inizi qui c'è la carta del matto e qui anche se è girato al contrario però c'è l'asso di di denari e qui abbiamo un altro asso ok carta numero 20 e poi abbiamo maestri escesi wow ma avete delle bellissime carte maestri escesi è una carta numero 40 e parla di di avere un compito particolare nella vita sono degli spiriti devoti che hanno intenzioni specifiche hanno intenti specifici sono maestri diciamo così reincarnati che si che sono tra di noi e che vivono percorsi di vita piuttosto turbolenti piuttosto sofferti proprio perché la loro missione di vita è imparare ad uscire da queste situazioni per insegnarlo agli altri quindi può far riferimento al fatto che voi dobbiate trasmutare questo tipo di energia perché avete il compito di insegnare ad altre persone come uscire da questo tipo di questione oppure potrebbe anche essere che c'è qualcuno qualche maestro insomma che vi accompagni in questo momento di vita e poi abbiamo comunque la carta dei risultati dei traguardi raggiunti del completamento quindi ragazzi alla fine dell'anno è un buon periodo si va verso quello che è una guarigione ci sono i nuovi inizi è un po' un ciclo che cambia no? alla fine dell'anno scrivetemi poi nei commenti come vi risuona io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale se volete continuare a farlo potete mettere like potete iscrivervi commentare lasciare una donazione ogni tipo di supporto per me è importante ormai si avvicina il Natale io vi faccio tanti 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 auguri di un felice Natale spero che possiate trascorrerlo in armonia in serenità con i vostri familiari vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao